Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menù a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre i 2500 bocci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri le pigre, indottrinati le indottrinate, i credenti le credenti, rimanete pure a crociolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena dove vi attende la verità e la verità vi rende liberi, liberi. Salve, mi chiamo Montague William Terzo e quello che voglio dirvi può sembrare assurdo ma meno credete meglio per me. Vedete, sono un banchiere, una grande industria. Molti di noi hanno controllato le vostre vite mentre lottavate e soffrivate in conflitto. Noi abbiamo creato le cose di cui non avete veramente bisogno, macchine da corsa, bella moda, ti vuoi plasma. Ricordo chiaramente che tutto è cominciato, segreti di famiglia, da padre a figlio, conoscenza ereditata che mi ha dato il filo, mentre voi, gente, dormite la notte nel vostro letto. Noi controlliamo i soldi che controllano le vostre vite, mentre voi adorate falsi idoli e non ci pensate due volte di vendere la vostra anima per un posto sotto il sole. Queste cose non vi importano quando sarà finito il vostro tempo, ma fintanto sono qui a controllare le masse. Mi siedo e guardo i miei beni, sicuro della conoscenza che io ho tutto. Mentre voi, gente comune, sapete di poter perdere il lavoro. Vedete, io vi tengo in totale disprezzo. Ma il sorriso sul mio viso, beh, mi dispensa. Per cui ho l'arma della TV globale che ci connette e ti invita l'empatia. Voi credete veramente che noi diamo un occhio a voi? Mentre noi, banchieri, siamo veramente pochi. Ma se vedeste questo, ve riprendereste il potere. Da qui il terrore quotidiano per rendervi codardi, panico, fallimenti, guerre e malattie vi impediscono di trovare la consapevolezza del vostro spirito. Noi trucchiamo il gioco. Corrompiamo entrambe le parti. Per mantenervi schiavi nelle vostre pietose vite. Così, uscite e lavorate, mentre il vostro corpo si spegne. E quando sarà tutto finito, a pochi anni dalla tomba, guarderete indietro a tutto questo e solo allora vedrete che la vostra vita non era nulla. Una mera fantasia. Ci sono solo poche cose che non controlliamo. Avvocati e forze di polizia. Abbiamo sempre fatto le nostre offerte mentre manifestavate nelle piazze. Ma non si sono mai resi conto che erano semplicemente delle pecole. Per il vero potere che risiede nelle mani di pochi. Votate per i partiti? Che altro potete fare? Ma quello che non sapete è che sempre lo stesso il vecchio Gordon ha passato le redini al buon David. E voi seguite il leader che è stato messo là, da voi. Ma il vostro sangue scorre rosso, mentre il nostro sangue scorre blu. Ma voi non lo vedete. Fa tutto parte del gioco. Un'altra distrazione come i soldi, la fama. Sette pronti per le guerre nel nome della libertà. Iniezioni per malattie che non ci saranno mai. L'assalto alle menti impressionabili dei vostri figli. Ed un mondo microcippato. Non farete nessuna lotta. Soppressione di informazioni per tenervi tonti. Spopolamento dei contadini. E' sempre strata la nostra meta. Ma l'eugenetica non era quello che speravamo potesse essere. Oh sì. Siamo noi che abbiamo fondato i nazi. Ma fintanto possediamo i media tv. Ciò che succede veramente non vi riguarda. Così continuate semplicemente a guardare la tv al plasma. Ed il mondo sarà gestito da chi non potete vedere. Il mondo sarà gestito di un'eugenetica di contadini. Siamo tutti i nostri dati. Grazie a tutti.